Tempo di bilanci per questa 73esima edizione del Festival di Sanremo. Si è infatti conclusa ieri sera l'edizione 2023 della Kermesse musicale italiana. Il vincitore in discusso di questo festival è sicuramente Marco Mengoni, il cantante in gara con il brano Due Vite è stato in vetta alle classiche. Guarda tutto il video, scarica l'app News24, apri TV e cercalo in programmi.